Un'espressione in dialetto per enfatizzare la proverbiale laboriosità meneghina e quella innata spinta a farsi avanti e mettersi in gioco direttamente, tipica dei milanesi, è con questi ideali che nasce Gapensimi, un nuovo format di partecipazione civica. È il nostro modo di rendere concreto l'amore per la nostra città, lo facciamo da diversi anni, abbiamo creato questo format Gapensimi appunto dove l'espressione milanese è calzante, c'è un problema lo affronto direttamente, quindi questo è un po' il progetto, da una parte la conoscenza della città e dall'altra la coscienza che possiamo fare qualcosa tutti quanti per la nostra città, è una cosa molto semplice. Gapensimi, Ritake Milano rafforza così l'impegno nei confronti della sua città attraverso due nuove iniziative. All'attività di cleaning, cioè di rimozione di tag adesivi e imbrattamenti dai muri, che aveva già coinvolto migliaia di partecipanti l'anno scorso, quest'anno si affiancherà anche un momento di cultura. Prima di iniziare la pulizia infatti, i volontari partecipanti potranno riscoprire i pezzi di storia e i luoghi conosciuti della città grazie a un tour guidato organizzato dalla pagina Milano da vedere. E insieme all'attività del cosiddetto plogging, cioè di corsa leggera mentre si raccolgono micro rifiuti, quest'anno saranno organizzati dei risvegli muscolari nei parchi della città con personal trainer. Il plogging è un'attività insieme sportiva, nel senso che sono persone che corrono, ma è soprattutto un'attività di risistemazione dell'ambiente urbano. In particolare il plogging, l'obiettivo è quello di raccogliere rifiuti, micro rifiuti, quindi correndo, facendo attività fisica in gruppo, divertendoci, si raccolgono rifiuti e quindi si rende l'ambiente in cui viviamo più bello. L'intervento di Gepensimi sarà così un messaggio forte contro tutto ciò che deturpa la città, puntando sul coinvolgimento attivo dei cittadini. Si aggiungono nuovi componenti, da oggi anche una componente culturale, insieme agli interventi di pulizia e di rigenerazione urbana ci saranno visite e guide culturali nei luoghi che saranno oggetto di questi interventi. E attività sportiva che, insieme a dei personal trainer, accompagneranno i volontari a fare delle attività di riscaldamento e di benessere corporeo, insieme all'iniziativa di raccolta e rifiuti, di ripristino dei luoghi e degli ambienti della città. Gli appuntamenti culturali, sette in tutto, che si terranno ogni terza domenica del mese, inizieranno domenica 19 gennaio in piazzale Cadorna, dove sarà ripulito anche il monumento del lago e del filo. Il plugging nei parchi pubblici, invece, inizierà sabato 25 gennaio al Parco Sempione e si svolgerà ogni quarto sabato del mese.